Salve a tutti quanti, io sono Terenas e benvenuti a questo nuovo video dedicato al gameplay di Kled Ah, ah, finalmente, finalmente, sì, saluta Ho trovato un bel ragazzo gentilissimo, grazie mille Grazie mille, Lucchinzo, gentilissimo che sei venuto qua ad aiutarmi Per fare questa partita tutti insieme allegramente Io ho preso la skin di Kled Ok, ve lo dico, è da un bel po' che un champion non mi citava tanto quanto Kled Il gnare è stato l'ultimo che mi ha detto Sono partiti impazziti Sì, è totalmente impazzito Allora, è abbastanza complicato come champion e quindi vi ho Se ho fatto tutto correttamente vi ho messo un video prima che va a spiegare single spell E poi vi ho lasciato questo video, se no ve le spiegherò nel mentre Perché ho dell'ability power? Dovrei avere dell'attack damage Sono confuso da questa cosa Ah, cazzo, è un'abilità proprio LOL è proprio uno skill shot, pensavo fosse a target, ok Ma passa attraverso i minion? Sì, passa attraverso i minion, ok Quindi la Q è uno skill shot che passa attraverso i minion Nooo, ok Non ha mana, questa è una cosa bellissima Oh, queste sono le cose belle della vita Allora, non avendo mana quindi si basa tutto sulla cool Cazzarola, ho sprecato il cooldown della mia WV Allora, è un po' complicato come champion Perché allora, la Q praticamente c'è una versione quando sei sul Skarl Che è la tua passione, c'è il tuo Praticamente il tuo lucertolone di fiducia Ok, poi c'è Allora, dicevo, c'è una versione della Q Che è quella che utilizzi quando sei in sella praticamente Che lanci una catena che si collega al tuo avversario Nel momento in cui lo colpisci E che lo tiri verso di te Dopo un piccolo delay No, cazzo, aveva l'Inihide, lui, io avevo il teleport Porca troia No, non è per niente far Micheal 3, io ero in mezzo ai 6 minion Anche quello ha fatto una bella differenza Però io tornerò prima in lane, K Allora, dicevo, la Q quando la colpisci sei in sella Crei una catena e la lanci verso l'avversario Che viene... Che praticamente ti permette di attirartelo verso di te Invece la Q quando sei smontato Invece è il tuo sparo di pistola Che ti lancia un pochino indietro Fa del danno Ok Ok Calma il sangue freddo La cosa più figa è la passiva Nel fatto che ottieni un bonus del 150% di attack speed Quant'è? 150% di attack speed Sì, è corretto 150% di attack speed bonus E al quarto colpo ti fa danno percentuale sulla vita Quindi funziona molto bene Sui tank Molto figo Molto figo Approvo in pieno sta cosa Perché almeno ti permette di... Cioè È un champion che si basa totalmente sulla D Oh, benissimo Allora Dai, lanciamoci di ultima Proviamoci Cazzo Porca troia Porca troia, no! Porca troia, no! Sono morto Eh, no! Io più che altro non ho l'ignite Quindi non posso far queste giocate così aggressive Il champion è difficile Cioè, non è facile giocare Perché Allora, la sua Q Amore charge Ah, ok Ha due proiettili Ok, questo non lo sapevo Ogni proiettile che colpisce Il 5% del coraggio di scar Cioè Ci sono un sacco di piccoli dettagli Sulle singole abilità Che non Non lo rende facile e comprensibile Allora Andiamo una per volta Una per volta adesso Perché continuo a ripartire La Q Lanci una catena Tiri verso di te Se sei in sella Se non sei in sella Invece quello che succede Molto semplicemente È che spari i proiettili La W È una passiva Quando La prima volta che Autoattacchi Ottieni un bonus di attack speed E il quarto colpo Fa danno percentuale Sulla vita La E È semplicemente Un salto in avanti E poi un salto indietro Nel caso in cui Nel caso in cui Ti ritrovi A colpire un champion È un avversario Che è quello È molto buono Tutti sono scaling Sul bonus La ultimate invece È quella che Letteramente devi soltanto Dire la zona Che devi colpire Ed è una zona Anche abbastanza grande È una zona enorme Quella che ti permette Di colpire Ok Sono di nuovo in sella Che è la cosa Più importante Guardate Quanto è grande È la zona Che potete colpire È folle Cioè tu letteramente Devi soltanto dire Dove Dove devi andare E accedere Tutto il tuo team Aspetta Ok Puoi concatenare La E La Q Questa è una cosa Importante Questa è una cosa Importantissima Allora Qua pushiamo La Q È anche buona Per pushare Viste che colpisce Tutti i minion E fa sempre Lo stesso danno Aspetta Quanto grande è Oh ma No ma dai Scherzi What the fuck Guardate quanto è veloce Oh Più che altro Con la ulti Cioè Fai danno percentuale Su l'unità massima Anche con quello Cioè Quello è nonsense Eh però Almeno ha un discreto Cooldown Meno male Che sennò La passiva della W Funziona sulle torri What mate Sei serio Sei serio No Quando una volta Che abbiamo finito Di uccidere sta gente Cosa ne pensi Prendiamo dei taco Vabbè Vabbè Dai È bellissimo Ah Ogni volta Che utilizzo Un qualsiasi autoattacco Per un qualsiasi motivo Sì Il feige è un must Su sto coso È tornato È tornato Ok Cioè Dalla mid lane Puoi veramente Fare del gank Nonsense E Oh Ah non c'era niente La cosa è che Se qualcuno ti fugge Puoi tranquillamente Riprenderlo con lei Quello è ottimo Ok Quello è ottimo Il fatto che quando Allora Il dash Quando voi passate Attraverso il ceppi Potete riutilizzarlo Per ridasciarli Attraverso È praticamente La versione migliore Della E di Renekton Bello Povero Renekton Si starà sparando In testa Guardate l'accelerazione Che gli dà Non lo so Col fervor Fervor battle è fortissimo Sicuramente va di fervor battle Oggetti Full AD Non penso Penso che andrà tipo Black Cleaver Poi Titanic Hydra Certo puoi farlo Penso in generale Fargli danno Mixato a Mixato ad HP Così che diventa Abbastanza dancoso Che può Prendere e tirare dritto Per la sua strada Da solo Lo scudo è da 300 Più 400 Cioè Ottieni uno scudo Durante la carica Questa è una cosa Un po' stupida Di quella la toglieranno 100% Puoi rigenerare Skarl Ok Ingaggiamo sti gazzi LOL Si la Yomu Sarà quasi un must Per il bonus All'attack speed Che si energizza Con quello che ottiene La W Ma comunque No non puoi Cioè Jungla non ne varrà mai La pena Per il semplice motivo Che non ti puoi rigenerare Skarl Mentre Uccidendo campi Della giungla E spero Che non lo mettano Che puoi farlo Perché se no Mi arrabbio Cioè Uccidere una torre Ti dà il 20% Comunque molto bello Molto bello Davvero Porca tra E sono troppo stanco Più che altro Per quello che Che sembro così Freddo alla cosa Perdonatemi Ok Minchia Più che altro Il potenziale Che ha di Di pill Su un alleato Cioè La Q potete utilizzarla Come tool di pill Cioè Tipo Avete una di carry Avete una di carry Che viene lanciato Viene colpito Viene Preso di mira Da un assassin Subito Parti Puoi partire In quarta Lol Questa cosa Il bonus movement speed È stranissima No sono Morto Rip Ne avevo anche 4000 gold Quindi ci sta anche Probabile che Con la titanic hydra Si vede sicuro Sicuro Più che altro Per il semplice fatto Che hai un po' Di statistiche Difensive in più Eh potrebbe essere Eh classico Un po' bruiser Lo si farà Tipo prendi la yomu Poi ti fai Cioè fai Fai Titanic Cioè Black lever Titanic Yomu Poi fai tipo Ex drinker Eh sì Perché se riesci a prendere Uno squishy Con questo champion Lo squarti Ma brutalmente Proprio Ne varrebbe anche La pena Sì Decisamente Black lever Titanico Yomu Dipendentemente Da quando stai Snobollando Poi fai Poi fai oggetti Un oggetto difensivo Strano ma figo Full AD Lo potrete mai Costruire Perché se lo costruite Full AD È totalmente Cioè Boh sì Potrà squartare La gente Però Al contempo Cioè ci rischi troppo Proprio Ci rischi davvero Troppo Non lo so C'è qualcosa C'è qualcosa Che non mi convince Però Forse la Q Non lo so Cioè È figo Ma tutto il suo danno Viene Viene dalla W E quello è un po' Una palla Cioè Speravo fosse uno Basato sulle spell Invece Cioè Ha tanta utility Sulle sue spell Ma al contempo Tutto il suo danno È legato principalmente Alla W Alla ulti Mi fa un po' Storcere il naso Questo però Mi piace Cioè È bello il champion In sé È bello È fatto bene È perfetto Cioè È venuto bene Strano 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 Bello però Ragazzi Io direi che vi lascio qua Per questo video Ditemi nei commenti Cosa ne pensate voi Invece di Kled E nulla Ci vediamo al prossimo Io sono Terenas Bella